ciao ragazzi bentornati e bene sì parleremo della nuova aero new di team una tariffa molto interessante ma prima saluto alessandro salmaso l'utente più veloce dello scorso di video ciao e super saluto al prossimo commentatore col dito ultra veloce vi ricordo la iscrizione campanellina sotto tutti i social per contattarmi ti rispondo sempre tutti link amazon per sostenere il canale allora in un periodo dove ci sono poche tariffe un po tutto fermo ho già fatto un video in cui appunto denunciavo questa ferma un po del mercato ma si sta incominciando a muovicchiare qualcosa di interessante abbiamo parlato di qualche tariffa l'altra volta dispuso che ha incominciato a muoversi un attimino e le prossime tariffe in arrivo che comunque sta preparando anche il delle nuove flash a breve sicuramente ci sarà un'esplosione di nuove 7 8 nuove tariffe tutte insieme copvoce ha lanciato come ho detto dal 9 novembre disponibile la evo 100 giga qualcosina è cominciato a muoversi ma a breve arrivano tante tariffe di colpo verso black friday saranno tante offerte soprattutto per il black friday che saranno esplosive recupereranno questo periodo un po di ferma dell'inizio dell'inverno perché qua sembra già inverno a novembre ma c'è già zero gradi di sera inverno è sempre lunghi e freddi allora dicevamo team in crescita team continua a crescere continua a migliorare ha tolto qualsiasi vincolo anche dalla linea fissa migliora anche sul mobile tariffe competitive prezzi aggressivi insomma come vi dicevo è l'unica che tenta di stare sempre al passo l'unica insomma una delle papabili diciamo concorrenti di iliad che cerca di stare al passo con la mentalità più aperta più verso il cliente ma tutti anche vodafone e win3 sono migliorate molto stanno lavorando bene anche loro come tutti gli operatori virtuale è un periodo in cui tutti gli operatori lavorano comunque bene con nuove tariffe con propensione verso l'utente verso il cliente quindi sono molto contento di questo vedo proprio un mercato più propenso al cliente chiaramente poi non al suo prezzo i suoi pregi sui difetti ma questo fa parte anche del carattere di ogni persona voglio dire quindi team sforna questa iron new a 699 sono 100 giga 80 di base 20 poi in aggiunta con la portabilità del numero da iliad mvno quindi da iliad e dai virtuali se hai iliad postemobile insomma un operatore virtuale più iliad che ricordiamo è un operatore fisico ma viene sempre messo in mezzo agli operatori virtuali per una casistica da quando è arrivato in italia così è se provieni da uno di questi operatori puoi aderire a questa offerta 200 sms che come fossero limitati ne usiamo veramente pochi sono tantissimi minuti limitati 100 giga in 4g ma attenzione attenzione vi do poi la novità di team che finalmente anche qua sta venendo fuori una cosa molto interessante che mi è piaciuta molto di team anche qua che ha aperto un po la mentalità allora abbiamo i 100 giga in minuti limitati gli sms 699 al mese su portabilità ovviamente ci sono dei costi di attivazione della semi iniziali ma poi dopo il mese è 699 ma c'è il 5g forever new quindi dal 5 novembre team a chi attiva nuovi numeri o fa portabilità regala il 5g per sempre quindi non lo fa più pagare con un euro 99 al mese dopo i primi tre mesi insomma il 5g forever è il 5g forever new cioè la possibilità di avere il 5g sempre sulla propria linea mobile abilitato un 5g di team che secondo me è uno dei più veloci insieme a vodafone e prestazionali come copertura e quindi abbiamo anche il 5g incluso senza costi quindi a 699 al mese abbiamo una tariffa abbastanza completa minuti sms 100 giga che possono essere per un'utenza media sufficienti per un'utenza media per la maggior parte diciamo delle persone 60 70 per cento 60 oggi diciamo un 40 per cento ne vuole di più di 100 però si possono avere anche più numeri c'è chi ha il wifi a casa al lavoro quindi i 100 giga possono anche bastare e avere anche il 5g incluso sempre nei 6 euro e 99 al mese secondo me è una tariffa interessante centrata bene il prezzo è competitivo assolutamente il 5g incluso mi piace brava team finalmente non fai pagare il 5g ottimo ma tutti vedete vodafone ottimo vodafone regala il 5g cioè non lo fa pagare team non lo fa pagare win3 bene non lo fa pagare il non lo fa pagare neanche lei nessuno fa pagare più niente insomma è un periodo dove tutti gli operatori stanno funzionando bene sia i virtuali tutti che gli operatori fisici hanno sono ben quadrati sono sul mercato fanno le offerte non magari duemila offerte sono un po sullo stile di video di un po più centrate è vero porta un po di ferma in questo in questa situazione ma poi ripartiranno anche adesso con black friday col mercato che si muove con gli aggiunti di giga ci sono i periodi dell'anno dove avremo tante offerte nei periodi dove ce ne saranno meno è un mercato così però la qualità si è alzata voi vedete la precisione che hanno tutte le applicazioni degli operatori mobili adesso nel segnarci i contatori esatti di giga minuti sms la comunità di consultare dai virtuali ai fisici insomma diciamo che come i prodotti noi device cioè sia gli smartphone che i tablet che i macbook che i computer portatili che i fissi che le televisioni insomma che tutto cresce la tecnologia diventa sempre più precisa più perfetta più definita più high definition ok più definita e più diciamo apportateli tutti anche come costi e più migliorano tutte anche le applicazioni di conseguenza quindi anche qua abbiamo una un notevole miglioramento anche applicativo da questo punto di vista e questo porta ad avere un servizio migliore anche per il cliente che si trova delle applicazioni complete su cui consultare tutto eccetera eccetera quindi questa è una tariffa secondo me ottima certamente non sarà la tariffa di chi consuma 200 giga al mese o chi come me li può sforare i 100 giga ma se ti accontenti e riesci a stare lì hai la wifi hai più numeri oppure non consumi sei lì borderline sui 90 giga al mese ti possono bastare 100 giga è una super tariffa è una mega tariffa a 699 consideriamo che la stiamo parlando di team di un operatore fisico leader in italia come copertura e velocità del 5g con una qualità molto elevata quindi non stiamo parlando con tutto il rispetto degli altri che hanno tutti qualità elevate oggi anche gli operatori virtuali hanno una qualità molto elevata della loro pur coi limiti di banda perché ci sono lo sappiamo che sono fastidiosi però la qualità elevata cioè si naviga bene ovviamente l'operatore fisico ha di più non ha limiti di banda ha una qualità un po' più alta ma anche l'operatore virtuale è top oramai oggi ci garantisce di telefonare e navigare senza problemi quindi qualsiasi sim noi abbiamo inserito o e sim abbiamo inserita meglio le sim sono molto meglio nel nostro device funziona bene detto questo a questo prezzo il team ha incominciato a capire che attira più più nel mercato il cliente quindi poi per quanto riguarda attenzione che per vi do una chicca non l'ho messo ho messo nel titolo del video scusate c'è la chicca finale ecco la chicca verso la fine del video è che in occasione del black friday team lancerà e metterà nelle offerte ai già clienti non tutti ma una buona parte la tariffa giga illimitati a 599 in 5g attenzione e poi non è per sempre ma è come se lo fosse nel senso che non c'è scritto per sempre ma difficilmente la tolgono io vi dico ancora una white che ha 6 7 anni mai toccata quindi una tariffa che può rimanere lì anche per 20 anni 10 anni non è ovviamente non c'è scritto per sempre però in occasione del black friday del 20 novembre tra poco verrà lanciata questa opzione giga illimitati in 5g a 599 al mese sono 600 giga ovviamente il limite massimo ma è altissimo sempre per l'uso corretto lecito della banda e questa tariffa di giga illimitati in 5g verrà proposta nelle offerte sta lì una settimana non è che sta lì molto quindi voi aprite le offerte dall'app se trovate l'offerta potete aderire e prenderla come funziona giga illimitati a 599 al mese quindi un'opzione che si va ad aggiungere al vostro numero con 599 tg limitati secondo me immaginatevi una 699 più più 6 quindi con 12 euro 13 euro avete tutto illimitato minuti sms giga col 5g con 13 euro quindi secondo me potrebbe essere un'opportunità oppure uso questo numero anche a casa e ho i 600 giga da usare in hotspot a casa da mettere in un router cioè quindi poi dovete togliere metterla va bene però attenzione se è attivato un nuovo numero team prima del black friday magari vi viene proposta questa tariffa lo usate come come diciamo sostituzione della legna fissa a casa quindi io vi ho dato questa chicca secondo me una chicca forte cioè una una comunque una notizia importante avere i giga illimitati in 5g a 599 al mese se ve li propongono non è un'offerta che trovate sul sito non è un'offerta che trovate nei negozi team non è un'offerta che potete chiedere voi vi viene proposta dall'app se non vi arriva non vi arriva quindi non scrivetemi cioè se volete scrivere scrivete sempre ma se mi scrivete dove l'offerta è chiaro che va dove vado a farla non è una un'offerta e che può essere richiesta dal cliente viene offerta dall'operatore da team stessa nell'app ok quindi dovete avere la fortuna che viene proposta che la vedete se voi vi viene proposta il 20 novembre fino al 10 dicembre tre settimane non guardate l'app è andata poi magari sta lì di più questo non lo sappiamo quindi attenzione anche a questa opzione in più dei giga illimitati detto ciò per quanto riguarda la tarifa promossa adesso attendiamo la risposta degli altri si sta incominciando a muovere qualcosa una tarifa che va bene per tutti gli utenti e soprattutto per la maggior parte che utilizzano fino a 100 giga 6 99 al mese ragazzi come sempre un caloroso saluto ciao da paolo e grazie come sempre ciao 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 ciao